Siamo con Enzo Mucci, presidente della Croce Rossa di Vasto. Ogni secondo sabato di settembre ricorre la giornata mondiale del primo soccorso. Quest'anno il tema è legato un po' all'aspetto digitale. Che cosa possiamo dire sul digitale in merito alla Croce Rossa? Che anche la Croce Rossa si sta digitalizzando. Abbiamo un portale dove abbiamo tutti i nostri servizi ma si sta digitalizzando anche nei confronti dell'utenza perché ci sono dei portali dedicati come ad esempio il CRI per le persone dove le persone che hanno diverse esigenze possono contattarci, entrare direttamente in contatto con il mondo della Croce Rossa, richiedere servizi di assistenza che poi vengono ribaltati sul territorio e poi vengono attivati a livello locale. Ecco, qui a Vasto avete già attivato i servizi online? Qualcuno ne ha usufruito? I servizi li stiamo attivando adesso, infatti il comitato si è registrato nel portale. Alcuni primi servizi sono già stati evasi. Ovviamente per il momento gran parte del lavoro è ancora manuale, fisico, nel senso che abbiamo delle persone che fanno gli sportelli, assistono fisicamente le persone, raccolgono tutti i documenti ma contiamo nel corso del tempo di digitalizzare queste procedure operative e quindi di smaltire la carta e diventare anche noi molto più online. Per quanto riguarda invece la formazione al primo soccorso? Ecco, qui c'è invece il percorso per entrare in Croce Rossa che si attua, inizia con un corso di primo soccorso che attualmente è ancora online, speriamo di tornare presto in presenza, è stato attivato online durante il periodo del Covid e l'abbiamo mantenuto perché è ancora molto snello e veloce, però speriamo che presto torni ad essere in presenza. Questo corso è di 10 lezioni circa e sono lezioni sia di primo soccorso che di storia della Croce Rossa, di vitto internazionale umanitario e sono la porta di accesso al mondo di Croce Rossa dove viene presentato tutto il nostro mondo. Successivamente c'è un esame, passato l'esame, questo primo step viene rilasciato un primo attestato e si entra a far parte del mondo del volontariato e si cominciano poi con i corsi in presenza, quindi il massaggio cardiaco, le animazioni e tutte le operazioni che devono saper fare i nostri volontari. Ovviamente è possibile anche frequentare i corsi e non entrare nel volontariato alla Croce Rossa? Sì, si fa solo il primo step che è il corso online, però è come affacciarsi ad una finestra, fare cucù e poi non godere di tutto quello che c'è dentro che è bellissimo ed è un mondo molto ampio che non è solo soccorso sanitario ma è anche assistenza ai disabili, alle persone indigenti, donazione sangue, attività con i bambini, campi di protezione civile, quindi insomma è un mondo molto variegato. Il soccorso non è più solo soccorso sanitario, solo soccorso ambulanza perché la società, il mondo si evolve e i bisogni sono sempre maggiori e differenti, bisogno di solidarietà, compagnia degli anziani, assistenza ai bambini, dipendenza dal web, insomma le sfide sono tante e non solo di soccorso sanitario.